WAHE COUCHE, VERRE TRADI LA VOSTRA NONDELINK91 IN QUESTO NUOVO EPISODIO DI NATIONAL ELEVEN GHOST RIKERS 2013 Se avete visto il video che ho messo su Instagram avrete notato sicuramente che ho imparato una tecnica molto particolare che è davvero davvero fighissima Dopo aver sbagliato varie combinazioni di giocatori sono riuscito a farla, ho perso tipo due ore a fare i legami Alcuni perché non salivano, altri perché mi sono sbagliato io Ho sbagliato un personaggio e quindi niente, è andata male Nonostante io sapessi quali personaggi usare Però non ci perdiamo d'animo ed oggi c'è la Zanark Domain da affrontare Un livello 5, abbiamo come capitano, abbiamo Sol Daystar come capitano perché l'ho messo al posto del vecchio Arion E quindi avrete già capito quale personaggio mi sono sbagliato a fare, no? Il legame, con quale personaggio ho sbagliato il legame, come un idiota Ho detto ma perché non imparano il tornado di fuoco? Tripla direzione, triplo distruttore, non so com'è in italiano sinceramente Sa solo che in inglese è triple crusher quindi Triplo distruttore dovrebbe essere in italiano ma potrebbe anche essere tripla direzione? Non lo so, non ho mai visto l'animo italiano e non ho neanche mai avuto la mossa in Crono Stones Che tra l'altro trovate sul canale E che comunque sia tornerà, eh sì Crono Stones tornerà, non lo sapete ma io lo so Ho già in mente qualcosa da farci Qualcosa di davvero carino Perché voglio proprio diciamo completarlo al 100% Andiamo un po', in difesa a chi ci avete voi Ehi, signorina Lei è un po' manesca Sol lascia perdere Lascia, bravo Sol, bravo Falli tirare, non ti preoccupare di nulla Ah questo però è forte Zona estesa, extendo zone Devo andare con lo spirito Non dovrei andare con lo spirito però Vediamo come reagiscono insomma Perché prima di osare a provare a parare colpi fortissimi Tiri fortissimi con una parata normale Vorrei prima vedere, vorrei prima riuscire a fare un gol Non vedere Ma a fare un gol, non a vederlo Mannaggia Perfetto Vorrei andare in Miximax con Con Fei Almeno posso fare un gol Un tiro più forte E quindi poi fare gol E' certo Eccolo No vabbè senti però eh Dai Dai però E' su Beh Miximax ci posso sempre andare Però se mi bloccate Ecco Mo' ci va Dico se mi bloccano l'azione E' ovvio che dopo si a zera In realtà sarai carico Con Però non ci ho fatto caso Perfetto Timing perfetto Grande Ma è così Saiya Dea delle nevi Non so In teoria Non è donna delle nevi Perché Non c'è la parola neve Ghiaccio Amico mio E' uno spirito guerriero E' uno spirito guerriero Zanak Domain Quanto è brutto il Domain In giapponese Zanak Domain Beh Domain è normale Ah quindi quello è un maschio? Ah non so Pensavo fosse una femmina No Non ho mai capito Se era un maschio o una femmina Quindi era un maschio 100% Allora Finchè Zanak non tira Con Con i Mixi Max Con lo spirito Stiamo tranquilli Ma tanto tranquillo Oh mio dio Oh ora c'è C'è il C'è il potere C'è il potere Di tre armature Tre spiriti Che si fondono Per diventare uno solo In un tiro Chiamato Tornado di fuoco Tripla distruzione Non so Non so se direzione O distruzione Lo ripeto Tu maledetta donna Invece di stare in difesa A farti A fare i tuoi Devi bloccarmi il tiro Eh infatti E infatti Lo sapevo Lo sapevo io Non poteva essere Tranquilla la cosa No No Ah si si No Come Oh vabbè Insomma un po' di azione C'è comunque sia Oh Come vi frego Pure a voi Sembra in me Loro fregano Quando sto a passare la palla Ma anch'io Quando voi passate vi frego No No aspetta Ma è carico Ah è Mixi Max Ma io sono Io sono stupido Ma tanto poi Ma sono proprio davvero stupido Dai va Eh mi sa che lo para Con questo sicuro Con questo sicuro Come non detto Missione completata Eh vabbè si Più o meno Non attivo Se non mi sbaglio A premere i tasti Come è successo una volta Forse nel Due partite fa O nell'ultima Non mi ricordo Aspetta però Ok vai Dicevo Se non mi sbaglio A premere Z e C Insieme Se riesco Ecco Questi due insieme Non si attiva Lo spirito M il burning Furore Ok vai Va Questo non lo para mai Non lo parerà mai Questo non può In genere Il tiro di un Mixi Max Con una tecnica normale Si para Ma lo spirito Guerriero A meno che Non sei veramente Sul Sul gioco classico Se è 99 E ti tirano con uno spirito Di uno che ha un livello 30 O cose così Ok ci riproviamo Non ci riproviamo Però Ti Ti sconfigo Presto Giro di Oddio In teoria Dovrebbe essere Giro di presto Però Suona malissimo In italiano Ah Trivella Esplosiva Dovrebbe essere In italiano Del gioco Mamma mia Goldie Di kinako Opla Ecco L'ho detto Mi sono sbagliato A toccare i tasti E vedi Eccolo va Perché se voglio passare Il personaggio E poi premere Bipper Allo scatto Se lo faccio Troppo velocemente No Da là Basta Un Shoot or break No no Lo spirito no Poi sto anche in furore Quindi Porca miseria Se questi lo attivano ora È finita Mamma mia Goldie Che roba Che è Vediamo un po' Ha un attacco Fortissimo Goldie Di livello A Mi sembra Mamma mia E si vede E si vede Eh vabbè Sì vabbè Però stai calmo Allora Con lui E con Con Bailong Ho una tecnica nuova Se non sbaglio È Great Blaster In giapponese Ovviamente Il nome giapponese E praticamente In armatura Li ho C'è anche la tecnica Con gli spiriti guerrieri Di loro due solamente Hmm Ho parato Vabbè Sì però Ok Ha parato Perché ero Piuttosto lontano E perché Non ho potenziato Il tiro Ma volevo proprio Vedere se ci riusciva A parare Senza potenziare Il tiro E a quanto pare Ci riesce Ma va bene Va bene Così Era una prova Le prove possono andare bene Come possono andare male E poi 4 a 0 Tu che sarà mai Vabbè Sì sì Bravi bravi Colpitemi Fatemi del male Ah Ok Sapete che facciamo Va bene Va bene Va bene Però Ah però Hai capito il piccoletto Hai capito Bravo Vediamo un po' Ce la facciamo a pararlo Sì Forse perché era Troppo lontano Però Anche tirata vicino Non penso Ce la faccia a fare gol Forse Forse Guardate La faccio vedere Ora Proprio anche Un pochino lontana Però Però la facciamo Con l'armatura Possiamo potenziarla Dai Oggi do spettacolo Con Inazuma Eleven Dai Diamo spettacolo A non finire Contenti di questo episodio Corposo Di tecniche Esplosive Eccolo qua 5 a 0 Più di questo Dai Oggi proprio Vi porto Un episodio Ricco Non hanno ancora Attivato lo spirito Perché mi fa pensare Che non lo attivino Ma perché Non mi sto zitto È qualcun altro Allora anch'io Ha 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 Uh Sì Chi è che sta attivando Il mix Max Che però non ci va Yey Sì però Goldie Non puoi dirmi Sorridi Durante la partita Perché da ridere C'è po' È inutile Non ce la fa Chi sta cercando Chi stavi cercando Lui Per fare cosa Ah questo Ah ok Ok Capito Eh qui devo andare A parte che non consumo nulla Meglio così Meglio così Ah King fire Uh Un rinvio lungo Tranquilli Versare tra Ma dai Non è possibile Non è Non è Umanamente Possibile Ero lì La potevo bloccare A me il computer Avrebbe bloccato A loro no Favoritismi Arbitro venduto In questo caso Computer venduto La c'è più La c'è più Maledetta Eh mo Qualcuno Qualcuno dovrò Prenderlo No Ma pure questo è un maschio Ma Non lo so Ah sembra Jim Jim Rife Ah eccolo Ah eccolo No perché Non me l'ha attivato È già finito Ok 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 Questo potrei non pararlo Eh Potrebbe esserci la possibilità Di non pararlo Poco male Vediamo un po' Che succede No ha parato Sono troppo forte Eh Molto in burning Pure io Sì Dai ragazzi Una cosa veloce Dai Anzi no No è andata malissimo Quello che volevo fare È andato È andato male Ok Più di una volta Il mix Si mazionava Bene Ah Questa è colpa mia Eh sì Devi aspettartelo Bello Devi aspettarti Di tutto Copiona L'ha detto Questa tecnica Copiona Eccolo qua Ma Aspettavo lui Siamo alle fasi Finali Parerà Solo qui potrebbe pararlo In effetti Wow però Potrebbe vincere lui No vinco io Wey Che succede qui Buono Ok Ah no No La formazione che ho messo è diversa da quella che ho di solito Il 4-3-3 Perché sinceramente il 4-3-3 Era un po' È sempre una delle mie formazioni preferite Però il 3-4-3 Funziona ancora meglio Che punta principalmente sull'attacco Dato che ho molti giocatori attaccanti E Goldy diciamo che mi funge da Da supporto per gli attacchi Diciamo che serve solo per fare il tornado di fuoco T-C Triple Crusher Chiamolo così Solo a quello mi serve Sì può risultare utile Se sta Per bloccare l'assalto Comunque sia Si è carica però Se no fa solo Cheese Formaggio Eh Disastro Breaker Zanark parla un po' italiano Bravo Ma deve Lo deve anche al fatto che in giapponese Le certe parole La maggior parte dei caratteri Specialmente quando si parla katakana Vanno sempre a coppia Due a due Si mette a ballare in mezzo al campo Io che dovrei fare Io che dovrei fare Però Però Un 6 a 0 Mi aspettavo almeno un gol da parte loro Sinceramente Un gol che non c'è stato E quindi Meglio così Insomma ho sbloccato un po' di Miximax In effetti qui Dopo questa parte In effetti vengono sbloccati un bel po' di Miximax Però non A Bailong Ma A Taio A Soul Daystar Uuuu Un'altra squadra Buono Questo è forte ragazzi I distruttori Cavolo Ah I segreti per Il tiro Ok un po' di Nazuma Candy Buono Eh vabbè ma l'ultima squadra È davvero forte I distruttori Siamo davvero pronti Ad affrontarla Questa è già Forte Ma si chiama Fran No Oddio potremmo farcela eh Però Finisce qui dopo il gioco No no ci dovrebbe essere un'altra squadra Poi ci sarebbe la squadra dei vampiri E la squadra dei licantropi E la fusione di quelle due squadre Non so veramente se c'è una fusione tra quelle due squadre Perché Dovrei finire Cronostons fiamma Per vedere se c'è la fusione Comunque così mi informerò E faremo anche quella Se c'è eventualmente Poi su Cronostons Ma Non lo so Io vado a reclutare Zanark ora Cavolo Ma è È devastante Zanark Poi ho un margine di tre risvegli di miglioramento Ma Ma subito ti voglio Bene Kuge Per questo video è tutto Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito E vi ricordo che in descrizione Trovate i link per Twitter e Instagram Se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo come sempre al prossimo video Bye bye